Ciao ragazzi Stranded Sail Exposure ok andiamo avanti non so dove siamo arrivati allora ok c'è ancora per due ore la brodaglia allora dobbiamo fare allora questo prendiamone uno ogni tanto così almeno riusciamo a ok quindi vediamo se è lui ok perfetto si ma io lo so gioco il spettula ok quindi è questo ok adesso vediamo con questo no il marlin no il pesce patoccone no questo rosso si no no allora pomidoro cipolla cipolla di qua e facciamo carota no riso allora eh 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 un bel risottino un bel risottino ne facciamo uno ogni tanto ragazzi così così non ci anzi non facciamo un altro dai ma non è possibile che non ci sia niente con questi qua nuovi eh ok adesso vediamo se è questo esatto molto molto male la patata è quella di averla appena messa ok melanzana di qua quindi carota quindi il pesce che pesce è oh per fortuna uno con sto pesce è Anione ah no la qua e Throughout eh ok No ok allora trova l'ultima statua d'oro l'isola nord est allora nord est secondo me nord est nord e ovest allora usa un kit un kit e e e e ah è un ok 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 uuuu lo zenzero eccolo eccolo che legnate che legnate che legnate ok 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 bisogna andare avanti di la ok 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 ecco la mega grotta e ago eh d 1 supportino metallichino vedi ho aperto un nuovo portale ed ecco una piazza sembrano libri appoggiati via fortissima sta software house mi piace un botto è un po alla come dicevo oggi alla intendo no ok questo l'hanno proprio messo tanto per no c'è ancora No, 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 no. eva 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 si combattere l'ultima volta che legnate che vi dà questo qua quando dire un bel dentino da barriera andata non 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 riesco a capire quanti ne mancano è un sacco un sacco un sacco di libri e sarà 6 di 7 vuol dire che io ne ho presi 6 di 7 sarà in teoria ah l'ultimo ah no 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 è solo per dire arca e dico quando succedono queste cose la turma e vedono il capitano che è quello piuttosto abbiamo fatto di più la visione di più che è la visione di più ma cosa è l'ultimo di più ma cosa è l'ultimo ma cosa è l'ultimo questa è la visione di più di cipolle vai dai i panni a stendere qua sono intelligenti i tipi qua a Ok l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo! ma l'ultimo, l'ultimo Marco Sveuus! notta locas aia, 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 aia c'è un po' più buona c'è un po' più buona e ora devo stare attento Sì, sì. Grazie per la visione! Quinta Quanta scena Quinta 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 Grazie a tutti. Ecco, questi qua vanno verso il fuori mappa. Grazie a tutti. Ah, dieci. 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 Ah, dieci. Ah, dieci. Ah, dieci. quindi potremmo salvare per dire la partita qua quindi adesso non c'è più nulla tutti i progetti tutte le cose sono state trovate adesso c'è solo da abbellire le cose con loro e platinare il gioco praticamente bisogna allora l'hai il cappello vedi è lì stufati qua non fate alla grande il cappello lì c'è questo come faccio a ottenere cappelli da teresa è un casino è un casino vabbè dai allora diciamo che il gioco è finito qua seguiranno altri video mi raccomando di seguire il canale di marco drums games se mi piace di seguire le mie live ore 9 tra pochissimo comincia i cari amici da 6 explorer è tutto ci sto giocando così tanto che non mi ricordo fino a che fosse grande stelle sì praticamente è alla fine del gioco secondo me poi magari lo platiniamo insieme ragazzi così arriviamo a 70 va bene dai ragazzi lo salviamo e ci vediamo al prossimo video mi raccomando di seguire il mio canale youtube facebook twitter instagram e twitter di iscrivervi al canale e di condividere con i vostri amici i miei video ciao amici alla prossima ciao ciao ciao